Politicamente scorretto di Alessandro Di Battista Il 15 agosto il presidente Conte disse Revocheremo la concessione d'autostrade E va fatto Uno perché è giusto Due perché sarebbe un modo da qui ai prossimi 10 anni di recuperare denari Non vedo perché, per quale motivo 10 miliardi di euro negli ultimi 10 anni Li possono fare i Benetton e non li possa fare lo Stato italiano In Edicola e in Librivia dal 17 giugno Grazie